Rossello si torna a parlare di temi urbanistici. Nell'ultima commissione urbanistica si sono affrontati temi importanti per il futuro della città, due su tutti quelle relative alle modifiche su situazioni ovviamente cittadine e soprattutto quelle relative a delle modifiche e soprattutto dalla riqualificazione di area di smesso. Si sono affrontate in questa ultima commissione col voto favorevole di tutti tranne l'astenzione motivata del consigliere di Girolamo, si sono affrontate cinque variazioni alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, in particolare questa passa come variante portici, quella che permette la chiusura dei portici che era ammesso già però solo per quelli costruiti prima del 1968 e adesso l'abbiamo esteso anche a quelli costruiti, portici costruiti successivamente la possibilità di chiuderli. E poi l'altra cosa importante è questa dell'approvazione del documento sulla manifestazione di interesse per la revisione generale del piano regolatore, quindi adesso ci sarà una pubblicazione e poi entro 90 giorni imprese, cittadini che vogliono manifestare delle intenzioni, delle loro aspettative, intenzioni, comunque proporre qualcosa all'amministrazione che poi ovviamente sarà valutata dai tecnici che incaricate la revisione del piano regolatore, vedere la compatibilità di quello che si propone anche con l'indirizzo generale e che quindi è anche questa una novità che noi porteremo anche sul territorio, nei consigli di quartiere, con incontri anche con i tecnici, cercando di far girare più possibile, perché più partecipazione c'è e più possibilità reale di avere idee e anche di coinvolgere anche tutte le parti politiche e non solo della città per arrivare veramente all'adozione e all'approvazione della variante generale del piano regolatore.